La gestualità delle mani è molto importante, saper decodificare i gesti delle mani ci dice molte cose sul nostro interlocutore. Potremmo dire che le mani parlano, sono anche collegate a una parte del cervello che è la parte, diciamo, la neocortex, quindi la nostra parte cognitiva. Però hanno anche l'influsso dell'amigdala e del midollo allungato, quindi del cervello rettiliano e del cervello mamagliano. Potremmo dire quindi che le mani rappresentano un'indicazione molto importante sulla personalità e sulle esigenze emotive del nostro interlocutore. Già dalla stretta di mano possiamo riconoscere molte cose. Avete mai visto, ad esempio, quelle persone che ti danno la mano in questo modo, cioè te la prendono così e ti stringono soltanto la punta delle dita, praticamente? Questa tipologia di persone che ti dà la mano in questo modo e la stringe in questo modo è l'espressione massima della chiusura e sono persone, ad esempio, molto manipolative e spesso hanno un forte narcisismo, ma l'essenza fondamentale è la manipolazione. Quindi devi stare molto attento a, diciamo, quando incontri questo tipo di persone perché cercheranno in qualche modo di manipolarti, di fregarti in qualche modo. Poi ci sono invece le strette di mano, sempre parlando della stretta di mano, faccio alcuni esempi, che vengono dati in modo tale che la mano ti avvolga completamente, come un guanto, come un cuscino, in modo morbido, materno, alle volte l'altra mano viene posizionata sopra. Si tratta di persone che invece, al contrario, diciamo, hanno un po' più che altro la sindrome della crocerossina, cioè tendono ad agganciarsi a persone un po' problematiche. Quindi devi, se vuoi agganciarle, questa tipologia di persone, manifestare dei problemi, insomma, non essere quello super o quella super realizzata. Perché non si agganciano? Hanno bisogno, diciamo, la loro parte emotiva, bisogno di trovare persone da accudire, persone problematiche. Poi, vabbè, ve ne sono altre tipologie, però la stretta di mano dà, diciamo, la mano, in generale i segnali della mano danno altre, molte altre indicazioni. Ad esempio, persone che tendono a tenere le mani in questa posizione, proprio a copertura, quando parlano, ad esempio, e significa che in quel momento lì stanno mentendo, perché si stanno... E quindi avviene istantaneamente, loro parlano e poi alla fine, quando ti dicono la palla, fondamentalmente, tendono a fare questo gesto qua, a coprire praticamente a distanza la bocca. Perché la loro parte emotiva sta dicendo, guarda che adesso sta mentendo. E possiamo sapere esattamente, diciamo, il momento in cui avviene la menzogna e su che cosa. Perché viene segnalato in questo modo. Cioè, è quasi come se venga da un lato indicata la bocca, dall'altro coperto. In modo tale che è la contraddizione, diciamo, tra... Che si manifesta nelle mani, tra la sfera cognitiva e la sfera emotiva. Le mani ci dicono anche quando, se una persona vive una situazione di forte stress. Ad esempio, non riesce a tenere le mani ferme, ma non con movimenti armoniosi, ma i movimenti diventano il tamburellare, diventano movimenti nervosi. Significa che è un'emotività che non si riesce a controllare. È un qualcosa come un qualcosa, come un motore che inizia a girare in modo non controllato, superando, diciamo, la sua velocità nominale. E quindi non riesce, la persona non riesce più a controllare. Ma controlla le parti del corpo, le altre parti del corpo, ma le mani no. Perché nelle mani c'è l'influsso, dicevo, dei tre cervelli. Il cervello cognitivo, il cervello emotivo, il cervello rettiliano. E quindi quando c'è un forte contrasto tra queste tre parti, le mani ne subiscono le conseguenze. Quindi, poi ci sono molte altre cose che eventualmente poi vedremo in altri video. Comunque, osservare le mani ci dà un'indicazione molto utile di codificare i gesti delle mani sul tipo di persona che abbiamo di fronte, anche su noi stessi. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. E ci vediamo al prossimo. Ciao!